Tra l'altro una coalizione di centrodestra, l'avete visto anche voi oggi qui, che è tuttora divisa perché mentre il leader della Lega diceva di voler aprire al Movimento 5 Stelle a nome di tutto il centrodestra dopo pochi minuti con una battutaccia nei nostri confronti Silvio Berlusconi ha dimostrato che il centrodestra sta sperando in questo momento nel PD più che nel Movimento 5 Stelle, vista e considerata la battutaccia nei nostri confronti.